Vince con il minimo scarto la capolista cavese in casa del fanalino di coda Vigor Lamezia. La squadra di Papagni inizia con il giusto piglio la gara. La prima parte infatti è di marca Aquilotti che riescono a tenere in continuo allarme la retroguardia casalinga. Il vantaggio arriva al dodicesimo quando su calcio d'angolo la difesa calabrese rimane incastrata tra i blocchi e Galullo in mischia calce in rete indisturbato. Ci provano i padroni di casa a reagire ma sia il colpo di testa di Malerba al diciassettesimo che il tiro di Golia al ventitresimo non portano gli eseri sperati. La cavese dal canto suo continua l'offensiva sfruttando le incertezze del reparto arretrato del Vigor Lamezia. Al ventiquattresimo Punto Riere sbaglia però da solo di fronte a Marino mentre Capitane Rosa al trentesimo da punizione riesce ad innescare una rocambolescazione in aria con Dancora che però viene chiuso in extremis da Marino e Cianci. Nella ripresa Sicignano di testa spedisce in curva dopo due minuti poi i giocatori di Mister Papagni arretrano il proprio baricentro ed aspettano gli avversari in modo compatto dietro la linea della palla. Al Vigor Lamezia non resta che farsi più intraprendente. Al cinquantatreesimo Fioretti prova a concludere ma la traiettoria è alta. Bissa al cinquantanovesimo con Conti pronto ad anticiparlo sul secondo palo. I mettegliani non ci stanno a mettere a rischio il vantaggio e ribaltano nuovamente lo schema di gioco precipitandosi in attacco. Proia al sessantanovesimo e Donna Rum al settantasettesimo si presentano di nuovo al cospetto di Marino ma stavolta il portiere calabrese non si fa sorprendere. Negli ultimi minuti di gioco il Lamezia tenta in vano di riequilibrare il risultato con un forcing più pressante dei padroni di casa ma nonostante qualche difficoltà evidente la Cavese resiste e conserva il vantaggio fino allo scadere. Così a cinque giornate dalla conclusione la Cavese conserva il primato e l'obiettivo campionato resta ampiamente nel mirino della formazione di Papagni.